Siamo qui a Praiano con uno degli albergatori più significativi della costiera, il tramonto d'oro, famoso anche per tanti ricevimenti. Come ti senti? Ora siamo in zona gialla, la lunedì, ma le prospettive come sono? Come le vedi? Per il momento per quanto riguarda la ristorazione è molto complicato, perché ad oggi non si sa dei banchetti che cosa succede, quando si possono aprire, quando si possono fare. Inoltre avere il coprifuoco alle 22, la ristorazione all'interno solo per pranzo è drammatica, ma soprattutto non possiamo organizzarci, perché ad oggi sappiamo che il coprifuoco è alle 22, ci organizziamo per le 22 e si sblocca alle 23, alle 24. Quindi è tutto un'incertezza, gli operatori non possono lavorare in queste condizioni. Non riusciamo ad organizzarci, perché avendo la sicurezza di quali sono le regole, ci possiamo regolare. Però non avendo questa certezza non sappiamo neanche come comportarci. Va bene, grazie, grazie Raffaele. In bocca al lupo a tutti, a Praiano, agli albergatori. Grazie.